...spia dentro che l'informa. È un'accusa pesante, puoi provarlo? Eh? E il capo aspetta una risposta. L'avrà. Senti, so che la situazione è grave, ma non pregiudicarla ancora di più. Monte dice che hai un identikit del maniaco. Ticalo fuori subito! Non ha detto la parola magica. Quale parola magica? Per piacere. Adesso basta con queste puttanate. D'accordo. Finito? Finito. Cobretti! Lei ha un difetto di comportamento. Sì, ma il mio è piccolo così.